Previsioni meteo per mercoledì 20 marzo. Al nord generali condizioni di bel tempo salvo qualche innocuo annuvolamento nella prima parte della giornata sulla Romagna. Al centro instabile in Sardegna e sull'Abruzzo con piogge e nevicate sui rilievi dai 700 metri, nubi sparse con ampie schiarite su marche e regioni tirreniche. Al sud diffuse condizioni di instabilità con piogge temporali, neve sulla dorsale dai 1000 metri in Campania, venti moderati, mari generalmente mossi, temperature stabili.